Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Allora, video un po' particolare perché in realtà questo argomento non lo trattiamo Però dato che c'è una pot nuova, credo che è il momento, un pochino, di andarlo a trattare Prima di iniziare, come sempre, i video scrivono, se non andate prima di iniziare a giocare al mondo di Yuki Non sono grazie mille Allora, potrebbe essere un indizio per una nuova pot? Non credo, però al limite se qualora magari ne uscisse una nuova, questo potrebbe essere un gran design La pot of arrogance, giara dell'arroganza, eh lo so, lo so, non è TCG, purtroppo non è TCG Però, carta magia, una nuova pot, interessante, dico nuova pot perché comunque è un'anfora che non si è mai vista Allora, vedete tra l'altro il rush dual come è differenziato bene Requirement ed effect, quindi costo ed effetto Allora, possiamo attivarla se non abbiamo giocato magia, attivato magia in questo turno E quindi possiamo attivarla, peschiamo due carte Dopo che questo effetto si è attivato Non possiamo attivare carte magia fino alla fine di questo turno Allora, tralasciando il fatto che l'artwork è qualcosa di veramente gigantesca, è fantastica Magari in chiave TCG sarebbe potuto essere una carta molto molto interessante Anche perché comunque ti dà un P1 a gratis P1 perché comunque questa te la togli dalla mano e se parte peschi due In tot mazzi un po' tipo Abrind e Eldritch super trappolosi che magari non vogliono troppo attivare sulle carte magia Potrebbe magari essere una soluzione molto interessante perché fondamentalmente ti blocca le magie Però appunto è un mazzo in cui non le utilizza E diventa gigante perché non ci ha costi alla fin fine Se appunto tu non usi carte magia non ha costi E diventa veramente incredibile perché alla fine ti va meglio dell'Upstar Ti va meglio di Extravagance perché Extravagance ti toglie l'Extra Meglio della Desires perché ti eleva 10 Non meglio della Prosperity perché la Prosperity col fatto che ti guardi le carte è troppo forte Quindi se è tanta roba poi vabbè non c'ha la limitazione delle carte magia Quindi questa però poteva essere una grande anfora Io credo che comunque se esca mai una pote nuova Tralasciando quelle che riciclano nel cimitero Deve essere almeno più forte della Prosperity Il che è molto complicato Comunque appunto è un mazzo che non utilizza spell O le utilizza magari al turno dell'avversario Magari deve settare le super poli E lì diventa molto più complicata la situazione Molto più complicata e potrebbe essere molto molto interessante Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi cosa ne pensate Tra l'altro ripeto artwork che è gigantesca Bellissima, troppo bella Quindi mi raccomando Portate l'antecg vi prego Fatemi sapere appunto voi cosa ne pensate Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti